Ben ritrovati al nostro spazio dedicato all'informazione quotidiana. La situazione del pronto soccorso siciliani è grave al punto che anche la politica ha deciso che è arrivato il momento di approfondire ulteriormente la questione e individuare delle soluzioni. All'Assemblea regionale siciliana è stata istituita una sottocommissione che si occuperà delle aree di emergenza e urgenza dagli ospedali dell'isola. La proposta è arrivata nei giorni scorsi dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca ed è stata accolta dalla Commissione Salute. Ne fanno parte tra gli altri i deputati agrigentini Margherita La Roccaruvole e Carmelo Paggia. Dopo la chiusura del lab vaccinale di Via Allende e Sciacca l'attività di vaccinazione anti-covid non si è fermata. L'Asp ha attivato il nuovo punto vaccinale presso i locali dell'ospedale Giovanni Paolo II. L'area destinata a teleattività è ubicata nella hall d'ingresso principale accanto alla postazione della Croce Rossa. Il punto vaccinale sarà a disposizione degli utenti il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle ore 14. Il Partito Democratico di Sciacca si prepara al congresso e con molta probabilità il segretario cittadino Gianluco Fisco che è anche assessore della giunta comunale si presenterà dimissionario. Dimissioni non per questioni politiche dunque ma per necessità per avere alla guida del partito un dirigente che abbia il tempo di gestire le dinamiche del gruppo e di rappresentare il partito in modo più continuo. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto con la mia segreteria, ha commentato Fisco, siamo un gruppo unito, abbiamo vinto le elezioni comunali e ha riconfermato Michele Catanzaro alla regione siciliana. Il carico di beni vestiari e di medicinali raccolti per le popolazioni terremotate di Turchia e Siria a Sciacca ha raggiunto la sua destinazione ed è stato consegnato all'Iman della comunità siciliana musulmana. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Paideia in collaborazione con il comune di Sciacca e il sostegno di tante associazioni. È stata effettuata il mese scorso ed ha avuto come centro di raccolta la Badia Grande a San Michele. Domani 10 marzo, nella giornata regionale dei beni culturali istituita nel 2019 in memoria di Sebastiano Tusa, l'archeologo e l'assessore regionale a beni culturali è scomparso in un disastro aereo in Africa, alle 11.30 il sito archeologico di Ereclamino ospiterà l'iniziativa denominata Il Teatro dei Piccoli ad Ereclè, realizzata dalla Copp Cultura con i docenti dell'Accademia del Drama Antico di Siracusa. Sono stati coinvolti i bambini dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Cattolica Ereclè a Montallegro. Sport scherma tra i atleti sacensi della discobolo in pedana nel lungo weekend di gare di qualificazione di tutte le armi per i campionati italiani cadetti giovani assoluti di scherma che si svolgono in Toscana tra Ciserano, Lucca e Salso Maggiore. Previste le prove di spada Under 17 e Under 20, così come quelle dei giovani assoluti di Fioretto e Sciabola. Tommaso Rossi e Sofia Figlioli saranno in gara nella categoria Under 20 e negli assoluti, mentre Siria Mantegna farà solo gli assoluti. È tutto, grazie per averci seguito. Restate con noi, buonasera. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.